Anche il Kamae al Utopic Fest, qual è il vostro contributo di oggi? Il nostro contributo è il food e raccolta fondi per questa manifestazione. Qui c'è tutto lo staff Kamae, come vedi siamo indiversi perché la cosa è impegnativa e il Kamae non si tira mai indietro, nel volontariato non ci siamo fino al collo. Oggi vi occupate della buona tavola toscana? Lo facciamo via via sempre nei nostri ritrovi, funziona, preferiscono la clientela e l'abbiamo fatta anche qui. Poi insomma ci vogliamo, io non è per difendere la terra retina ma la porchetta è più buona quella da Arezzo. Certo, quella del Monte San Savino è meravigliosa, certo è buonissima. Ecco sono quattro giorni in cui da Arezzo, da questo borgo, da tutta la città parte un grido insomma vogliamo la pace nel mondo non solo tra Ucraina e Russia ma anche negli altri conflitti. Eh sì, questo è un impegno grande, è un impegno grosso. Noi ce la mettiamo tutta, siamo piccoli, diamo il contributo che possiamo, speriamo che ci ascoltino, chi di dovere che ci ascolti e questo è il nostro impegno. Ecco lei ha toccato il tasto del volontariato aretino che in questi giorni, in queste settimane ha dato una grossa mano anche in Emilia Romagna. Sì, noi ci siamo, ci siamo anche come Ampas perché noi siamo volontari anche Ampas e quindi siamo lì perché veramente qui siamo in mezzo al fango anche noi oggi però è una cosa veramente tremenda quello che è successo in Romagna e quindi questo sta a significare che dal volontariato nasce anche una proposta è una richiesta di curare di più il territorio, ecco questo noi vogliamo dire. E noi che siamo camae, che veniamo dalla civiltà contadina, il territorio e l'ambiente è stato creato proprio dalla civiltà contadina e quindi bisognerebbe tenersene cura. Ecco ma chi lo cura invece il volontariato? Chi cura il volontariato? Eh, questa è una bella domanda. Preferivo che tu non me la facessi, però ormai che me l'hai fatta dirò che con il terzo settore qualcosa è cambiato, devo dire la verità perché almeno da un punto di vista giuridico, formale, qualcosa è cambiato però l'impegno è tanto e il nostro nemico principale rimane sempre la burocrazia. Questa è fondamentale, la prima delle battaglie è quella contro la burocrazia.